Cari ragazzi e care insegnanti, siamo all'interno della Villa dei Mosaici di Spello, una delle scoperte archeologiche più straordinarie dell'Umbria, un museo moderno e multimediale concepito secondo le più innovative tecnologie. Noi siamo davvero impazienti di potervi riaccogliere all'interno dei nostri musei, ma al momento questo non è possibile e se anche le luci dei nostri musei sono spenti noi abbiamo deciso di accenderle per voi con una serie di visite guidate virtuali che vi condurranno alla scoperta della storia, dei capolavori del Medioevo, del Rinascimento e dei grandi della musica classica. Tutto questo direttamente dalle vostre classi o da casa vostra. Collegandovi con noi potrete interagire con curiosità e suggestioni. Tra condottieri romani, geniali pittori, non ve li annoierete di certo. Non vi resta che scoprire tutte le nostre proposte didattiche sul sito www.sistemamuseo.it cliccando sulla sezione didattica. A tutti voi che ci seguite da tanto tempo, un abbraccio virtuale da Sistema Museo. Grazie.